Signori bentornati in un nuovo episodio di ARK Allora nell'ultimo episodio siamo arrivati su quel faro che avevo detto che l'avremmo controllato Non vi nego che sono entrato e non c'è un cazzo Non c'è nulla di interessante Un passaggio lì c'è qualche ragno rompicoglioni Sono preso un infarto a vedere il primo ragno ma niente di interessante Nei commenti uno di voi mi ha detto di chiamare un animale mutandina Io non so quali problemi ti affliggono Però è vero anche che mutandina è un'idea geniale Quale animale potrebbe stare come mutandina Minchia ma lo sai che forse l'ho trovato La ranocchia Ah i due rinoceronti li ho portati Madonna mi sono baggato Ecco qua la ranocchia Vieni qua opzioni cambia nome Mutandina Perfetto mutandina ce l'abbiamo Poi mi avete detto di chiamare questi due Frost e Frozen Quindi penso di dover chiamare il maschio Frost Raga non mi dà le opzioni non so perché Andiamo su di lui Eh su di lui si Lei è la femmina quindi si chiamerà Frozen Ok Frozen è la femmina e Frost lui Solo che non mi dà le opzioni non so perché Mi dispiace vabbè sti cazzi Tanto mannaggia non è il mio ma è di molesto Quindi il mio lo posso modificare Quello degli altri non mi sembra il caso Ok fatto queste piccole cose Oggi abbiamo una missione da fare molto importante Uno di voi mi ha detto di catturare un magmasauro Il magmasauro è un animale ovviamente che si trova nelle zone vulcaniche Un animale molto forte e soprattutto molto utile perché si ciba di zolfo Ma riesce a fungere da fornace per squagliare diciamo fondere i vostri materiali Quindi è un animale che non farebbe male onestamente averlo E' un casino da fare perché come le viverne dobbiamo rubare l'uovo Ma soprattutto come le viverne il magmasauro potrebbe attaccarti e colpire direttamente te sopra la sella Quindi sta roba significa che è molto pericoloso andare lì Potremmo essere praticamente one shotati da lui se soltanto mira noi anziché l'animale Oppure mirando comunque l'animale va a prendere noi perché il suo raggio è un po' ad aria E' comunque un animale molto figo da avere e da prendere Quindi direi di partire in questa spedizione e dobbiamo cercare di prendere un animale Che possa affrontare la situazione Ci vuole un animale veloce quindi potrebbe servire il grifone Ma allo stesso tempo siamo in una zona molto ostile Il grifone comunque vuoi o non vuoi è indifeso Che non sia di fuoco quindi la viverna è esclusa Il ghiaccio non mi sembra il caso Io direi di partire con electron La mia viverna elettrica E' di dirigerci verso la zona vulcanica Ci mettiamo due punti al danno Anche perché l'uovo pesa quindi dobbiamo recuperarlo E quindi si parte verso questa spedizione La zona vulcanica è di lì Ci vediamo una volta raggiunto il luogo Perfetto Siamo nella zona vulcanica Adesso io non so dove si trovano i magmasauri Però possiamo semplicemente addentrarci in queste zone E vedere cosa riusciamo a trovare Quindi bisogna esplorare Magari proviamo a seguire i fiumi di lava Tipo la zona vulcanica è una zona ostile per carità Vero anche che farsi una casa qui Sei anche a posto per risorse Qua si trovano i cristalli L'ossidiana Si trovano il ferro Solo che la zona non è delle migliori Cosa sei tu? Oddio sei un magmasauro Porca puttana Vediamo se riusciamo A farle male Ok Il danno ce va Ma anche noi 25 level up Così Allora portiamo la vita a 10.000 Partiamo da questo Del soltore Molto buono Portiamo il peso a 700 Per adesso Dopodichè aumentiamo molto il danno Andiamo un puntino alla velocità Forse anche due Così a 130 E riprendiamo il danno Bene Esploriamo Il fatto che qua ci sia un magmasauro È un buon indizio Possiamo provare a controllare Questi fiumi di lava Questa cascata di lava Per vedere se magari c'è una grotta Qualche parte Perché qui è proprio un passaggio Proviamo a riscendere di qui Vediamo cosa troviamo Riprendo la stamina Oddio Una viverna elettrica Mi vola sotto la testa Non è un bene L'unico modo di fottere la viverna È quello di fermarsi E prendere poi un vantaggio Ma qua ci sono un mare di viverne fuori Questi saranno stati i ragazzi Ma l'hanno fatto visita alle viverne Le hanno fatte uscire tutte dal nido Beh levo 451 a colpo Bisogna ucciderle le viverne Bisogna ucciderle Guardalo lì Manco fosse il destino Che mi chiama Ti prego Dimmi che sei di livello alto 85 Va cagare Poi uno di voi Mi ha pure chiesto Se potevo andare a caccia Di un gigantosauro Io onestamente A parte che non ne ho mai incontrato uno Cioè nel senso Da in questa partita Poi non lo so In teoria dovrebbe essere Molto tosto da fare Però se lo incontro E mi trovo Con un po' di risorse Ci posso fare il tentativo Senz'altro Niente comunque Abbiamo esplorato Un bel po' questa zona Siamo passati dalle viverne Recuperando un po' Di Un uovo di fuoco Livello basso Ma sempre un uovo di fuoco Fermo qui Mentre recupero stamina Mi apro questa cassettina E non ho trovato Un cazzo Ok ragazzoli Forse ho trovato Qualcosa di interessante Cazzo E sta roba Sembra una grotta Ok Sembra una grotta Non vedo un cazzo E pure con la torcia Non è che cambia tanto Oddio Che schifo Non vedo niente Madonna Ma tutta questa caverna A quale scopo Di qui c'è un'altra uscita E' vuoto Una caverna vuota Vaffanculo L'ho convinto Di aver trovato La vita Dio ma che cazzo Ma che cazzo di animale E' sta roba Megalani Ma non l'ho mai incontrato Sta roba E' tipo Il Il moscop più Un po' diverso Ok Dubito Sia Erbivoro No Andiamo Mettiamo La carne Cos'è che ha Tossina di megalania Non mi dire Che questo animale Produce Della tossina Di tanto in tanto Che poi servirà A fare magari Dei dardi narcotici Ancora più potenti Di quelli che abbiamo Non me lo dire Perché se è così Sarebbe una spacchiosità Incredibile Ho preso Quanti dardi Mi rimangono Ok 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 Anche ora ce la faccio Non scappare Cazzo si è buttato Madonna mia L'ho ritrovato L'ho ritrovato Dai che io sono avvelenato Tu stai ferma Viverna di merda Ma porca puttana Preso 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 Vieni qua per favore Eh lui ignora i fischi Madonna mia Prego prova Riesce ad atterrare Una buona volta Cazzo sono Minchia Raga ma lo sapete Che io sto morendo Mangia 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 Sono avvelenato Non pensavo Ti riducesse la vita Così Veloce Electron Porco Puoi atterrare Viverna di sto Gran cazzo Minchia Che non atterra Nostri animali Restano qui a mezz'aria Guardali Ma porca puttana Oh quanto sei fatta male Se riuscissi Ma porca Cioè io sta cosa Veramente Non la riesco a capire Cioè non c'è modo Di farla scendere Staviverna Porca puttana Oh Ma no ma vai con calma Guarda dove ti vai A parcheggiare Nella lava Sei proprio un coglioto Vera Quell'animale Eccolo lì Porca puttana Che non so manco Se si addomestici Adesso così Io ho sete Guarda Prego dimmi Che ti addomestici Così Cosa puoi mangiare Pensa Ah ok si addomesticato Perfetto Quindi mangia carne Ok Perfetto Ok prima che svengo Dalla sete Dovrei avere Delle capsule Vieni qua Questo è un maschio Non ho fatto caso Se l'altro è una femmina Però è un animale Che mi piace Ritorniamo lì Mentre mi apro la luce Niente di interessante Come al solito Chi ha le viverne Comunque Se non le Se non le fai atterrare Ti rovini la vita Proprio Livello 17 Sei una femmina Sì Godo Fatto a coppietta Perfetto Il megalania Ce l'abbiamo Questo è un animale Che non avevo mai Catturato Prima d'ora Allora Io vado a bere E vado a cercare Di nuovo Sti cazzo Di magmasauri Viverna Non rompere i coglioni Adesso io non posso bere Ok Ok Ho buttato un po' di cazzate Ritorniamo alla nostra ricerca Della gronda Ma questa è una gronda A non mi dire che ce l'avevo davanti Ma vai a cagare Dai Ce l'avevo davanti agli occhi Ok Ci siamo Ragazzuoli È molto pericoloso Fare questa missione Potrebbe significare Non tornare più a casa Togliere Lì Guarda come ho preso la Maddonna mia Ok Fuori uno dai coglioni Qui ce n'è un altro Sì uno lo vede Due uova le vedo Devo eliminarle raga No no Porca puttana Perdona Un uomo Scusate Non ho venuto a mirare bene Ok L'acrobazia della vita Ragazzi Calma Dobbiamo soltanto pregare Che queste uova Siano livello alto Livello 20 Torca puttana È livello 50 Eh qua ci sono altri nidi Però li abbiamo uccisi Magari adesso Quando respawneranno Di nuovo Con un po' di culo Si accoppiano E fanno un uovo Più forte Va bene A questo punto Ci accontentiamo Ritorniamo verso casa Ma non prima Di aver raccolto Un po' di zolfo Per gibare Insomma Quello che poi sarà Il nostro magmasauro E lo zolfo Lo possiamo trovare Qua stesso Io ho sempre fame E mi sono rotto i coglioni Calcoliamo un po' di zolfo Guardate lì 169 510 Bene Arrivato a questo punto Mi dirigo verso casa Che bella Quella viverna di fuoco Che sorvolava Dopo 1200 anni Eccoci qua A casa nostra Quest'aria qua Tra l'altro Si vede che è proprio abbandonata È piena di alberi Mentre qua ormai È tutta pulita Siamo arrivati a casa Parcheggiamo la viverna Davanti casa Significa che è piena Di materiale E dovremmo sistemare Questi animali E levarci Da qui Non c'è qualcosa sopra Ritorniamo a noi Abbiamo trovato Due uova di magmasauri Ora io nel frattempo Che mi svuoto Metto le uova Qua a scludere Ma qua c'è un uovo di vivere Tra l'altro Ok Mettiamo queste uova A scludere Il resto di questa carne Onestamente La andrei a cuocere Ma qui manca del legno Ah la viverna di fuoco E io ho detto Porca puttana Ho trovato un altro uovo Di magmasauro E non lo sapevo Speriamo che è una femmina Però se no dobbiamo Freddarla Vediamo È un maschio Vaffanculo Anche questo Megalodonte Megalosauro Megalania Sono andato a raccogliere Il ferro Megalania Ok Manca la fibra Porca puttana Che non rifornisco mai Sta zona Prendiamo le selle Mettiamo i circuiti qua Abbiamo 238 In totale Il ferro a che punto è che sta sciogliendo Dallo scorso episodio 261 261 264 Bene 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 Il ferro Il ferro c'è Non è un problema Ok Fammi vedere di che cosa sai fare Allora io ti metto la sella qui Così attacco Sì abbasso la testa Mordo Non so raccogli materiali No materiali non ne raccoglie Cosa cazzo fa il Megalania Perdonami Aveva della tossina Di Megalania Io non so se è una tossina Che loro nel tempo Iniziano a produrre Perché in quel caso Sarebbe molto utile Un animale così Ciao Bene mettiamo la polvere Da sparare nel banco Che non abbiamo più dardi Magmasauro Ok tra l'altro Guardate il culo raga E' un maschio E' una femmina Ok Questo qui era Livello Non mi ricordo Che livello era Ciao cucciolo Mamma mia Riberna Porco dio Aspetta che devo prendere Lo zoffo Non lo so dimenticato Vieni qua Porca puttana Penso che fra un paio D'anni Comunque arrivi Bisogna avere pazienza Perfetto Il primo ce l'abbiamo E' un maschietto Livello 50 Più o meno Un po' di cibo Tieni l'altro A te Vieni qua Porca puttana La lentezza E ce li abbiamo Signori Io direi che per questo episodio A sto punto Possiamo terminare qua I magmasauri li abbiamo presi Abbiamo preso pure due megalani Abbiamo esplorato un bel po' Qui sta come esplorazione Noi ci vediamo nel prossimo episodio Vediamo quale altre creature Possiamo catturare Alla prossima Ciao bene mia Ciao